Un saluto ad Ede Software. In questo video della serie dedicata al modulo ECS ci proponiamo di analizzare a scopo puramente didattico un edificio in muratura situato in una località montana. Abbiamo scelto questo edificio perché è costituito da muri di notevole spessore con diverse aperture ad arco e presenta una struttura abbastanza regolare che ben si presta ad essere trattata come esempio. Per questo edificio abbiamo realizzato due modelli che si differenziano per la modellazione strutturale degli archi, in particolare la modellazione ad asta e la modellazione a blocchi. Vedremo un confronto tra i risultati dell'analisi ottenuti con i due modelli. Ma passiamo subito alla fase di modellazione. L'edificio è stato modellato su due piani più un piano copertura. Come vediamo presenta una struttura abbastanza regolare sia in pianta che in elevazione. Al piano 3 è stato modellato il tetto a padiglione, questo avvenuto tramite solai inclinati che seguono la reale geometria del tetto. Gli elementi strutturali impiegati, quali muri e travi, hanno il solo compito di trasferire i carichi dal solaio alle strutture sottostanti e saranno quindi esclusi dalle verifiche. Il materiale utilizzato è un materiale muratura esistente, con tipologia blocchi lapide e squadrati e livello di conoscenza LC2, quindi adeguata. Per quanto riguarda i valori dei moduli elastici e delle resistenze, sono stati quindi selezionati i valori medi consigliati dalla normativa. Applicheremo poi in fase di modellazione strutturale un coefficiente correttivo per tenere conto della buona qualità della malta. Per quanto riguarda la modellazione degli archi, in questo primo modello utilizziamo la modellazione ad asta, mentre vedremo un modello successivo in cui gli archi saranno modellati a blocchi. Passiamo quindi alla modellazione strutturale. Una volta creato il modello strutturale, andiamo ad apportare le dovute modifiche. Sfacciamolo usando il comando trova. Selezioniamo tutti gli elementi del piano 3, che non siano dei link rigidi. Per tutti questi elementi andiamo ad impostare la proprietà da verificare pari a no. Sono infatti gli elementi che abbiamo utilizzato per la modellazione del tetto a podiglione e che non vogliamo che siano sottoposti a verifica. Selezioniamo ora tutti gli elementi che abbiano come materiale la muratura esistente. Selezioniamoli e per tutti questi elementi, nella voce caratteristiche costruttive, applichiamo la caratteristica malta buona. A questo punto, per tutti questi elementi, le proprietà meccaniche terranno conto del coefficiente correttivo relativo alla malta buona. Proseguiamo andando a selezionare tutte le strisce. Per questi elementi andiamo a disattivare la verifica presso flessione con planare. Abbiamo infatti constatato che sono presenti delle architravi che rendono non necessaria questo tipo di verifica. Voglio farvi notare che per quanto riguarda le strisce provenienti da apertura d'arco, la verifica presso flessione è disattivata di default. Bene, a questo punto chiudiamo la finestra trova e andiamo ad eliminare la rigidezza in tutti i livelli. Vogliamo infatti che tutti i livelli siano deformabili. Fatto questo ci portiamo nella finestra parametri di calcolo e scegliamo di eseguire l'analisi statica lineare non sismica e l'analisi pushover. Per quanto riguarda l'analisi pushover utilizziamo la distribuzione B ed E, un incremento di taglio di 200 kN, le direzioni più x e più y e impostiamo il punto di controllo come il baricentro del piano 2. Vogliamo quindi escludere il livello dove abbiamo modellato il tetto. Confermiamo e procediamo con l'esecuzione dell'analisi. Dai risultati dell'analisi modale si evince che il modo principale della struttura in direzione x ha un periodo di 0,120 secondi con una massa partecipante del 62,3%, mentre in direzione y abbiamo un periodo di 0,191 secondi e una massa partecipante dell'87,8%. La struttura è più flessibile lungo y, infatti abbiamo una dimensione minore in quella direzione. Per quanto riguarda l'analisi pushover abbiamo attiva la visualizzazione delle verifiche e possiamo scorrere i vari passi dell'analisi incrementale per visualizzare lo stato della struttura via via che il taglio aumenta. Vediamo quali siano le aste che entrano in plasticizzazione e arriviamo all'ultimo passo per appuntarci il valore della forza massima e dello spostamento massimo in modo da operare un confronto con il prossimo modello che andremo ad analizzare. Possiamo quindi passare alla curva B più y, in questo caso abbiamo un valore della forza massima e poi un valore che corrisponde alla caduta del 20% del taglio. Anche questi valori è utile memorizzarli, in questo caso abbiamo una forza massima di 2803 kN con uno spostamento di 5,22 mm. Andiamo avanti con la curva E più x, qui raggiungiamo una forza massima di 4803 kN con uno spostamento di 1,79 mm e per finire la curva E più y dove abbiamo la presenza di diverse sottocurve ma una forza massima di 3203 kN con 6,75 mm di spostamento. Bene, a questo punto possiamo passare al modello della struttura con la modellazione a blocchi degli archi per operare un confronto sui risultati dell'analisi. Questo modello si differenzia dal precedente per la modellazione strutturale degli archi. E' stata scelta infatti la modellazione a blocchi che, avendo un numero di aste ridotto rispetto alla modellazione a blocchi aggiunti, permette di investigare il comportamento degli archi anche quando sono collocati all'interno di strutture più complesse come quella che abbiamo appena analizzato. Un'altra differenza riguarda la suddivisione in conci delle due colonne su cui si impostano gli archi del porticato. Per queste colonne infatti, essendo relativamente snelle, è stata scelta la suddivisione in conci in modo da affrontare la verifica rispetto alla posizione della curva delle pressioni. Bene, tutte le operazioni che abbiamo effettuato sul modello strutturale precedente sono state effettuate anche su questo nuovo modello. Possiamo quindi passare ai risultati dell'analisi. Per quanto riguarda l'analisi modale, notiamo che il periodo in direzione X è di 0,117 secondi, molto vicino a quello che avevamo ottenuto con il modello precedente che era pari a 0,120. Vediamo in direzione Y, abbiamo anche qui un valore molto simile, 0,184 secondi contro i 0,191 che avevamo ottenuto in precedenza. Per quanto riguarda l'analisi pushover, ciò che coglie subito la nostra attenzione è il maggior grado di dettaglio nella zona degli archi. Ora infatti, oltre alla visualizzazione delle verifiche, abbiamo a disposizione la posizione della curva delle pressioni sia negli archi che nelle colonne. Ovviamente possiamo apprezzare la posizione della curva delle pressioni lungo tutta l'analisi incrementale e vedere a quale passo si formano le prime cerniere negli archi, che corrispondono alla posizione della curva delle pressioni coincidente con il bordo dell'arco. Questo ovviamente perché abbiamo impostato una resistenza a trazione nulla dei blocchi. Ovviamente tutte queste informazioni non erano disponibili con la modellazione ad asta. Possiamo proseguire con l'analisi incrementale fino ad arrivare all'ultimo passo della curva, dove abbiamo un valore della forza massima di 5.000 kN e un valore dello spostamento di 2,26 mm. Confrontando questo valore con quello che avevamo ottenuto nel modello precedente, notiamo che i valori non sono poi così distanti. Andiamo ad approfondire le varie curve che abbiamo calcolato, quindi la curva B più Y. Anche in questo caso notiamo che troviamo dei valori simili. Passiamo alla E più X e successivamente alla E più Y. Per un ulteriore confronto abbiamo preparato un prospetto che elenca gli indicatori di rischio sismico allo stato limite ultimo e allo stato limite di danno per le quattro curve calcolate e per le due modellazioni dell'arco ad asta e a blocchi. Puntiamo la nostra attenzione sull'indicatore di rischio sismico allo stato limite ultimo in termini di PGA. Notiamo che per le varie curve abbiamo dei valori piuttosto simili tra i due modelli se non fosse per la curva B più X dove il valore si discosta maggiormente. Quello che possiamo notare è che per la modellazione a blocchi abbiamo una maggiore coerenza tra le varie curve rispetto alla modellazione ad asta. Per concludere possiamo dire che i due modelli sono entrambi validi perché portano a risultati molto simili. Il modello a blocchi però offre un grado di dettaglio nettamente superiore permettendo di indagare il reale comportamento dell'arco a tutti i passi dell'analisi incrementale. Ma soprattutto la modellazione a blocchi offre la possibilità di tener conto di interventi di rinforzo di tipo attivo e passivo applicabili all'intradosso o all'estradosso dell'arco. Proprio di questi interventi parleremo nel prossimo video a cui vi do appuntamento. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.